Ho provato prima a chiamare il sindaco, il vice sindaco, nessuno mi dà risposta, non so più cosa fare. Nemmeno questo contributo mi possono dare perché non mi danno neanche un benedetto numero, quindi non lo so, questo è Treviso al giorno d'oggi. Sportelli presi d'assalto oggi a Treviso per ottenere un sussidio attraverso il bando indetto dalla regione a favore delle famiglie in difficoltà. Tante le persone allo stremo che già dalle prime ore del mattino si sono presentate fuori dall'assessorato politiche e sociali di Viale Vittorio Veneto. Una situazione ben presto degenerata, da subito sono volate urla e spinte, tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili. Per recuperare i soldi del bolletto noi dobbiamo fare l'affilo per farli recuperare. È una situazione tragica e preferisco non parlarne. Dalle sette e mezza stamattina sono qua, ho appena avuto il mio numero adesso. Il sussidio prevede un tetto massimo di 2000 euro, domani alle 12 scadrà il tempo per presentare la domanda. Le famiglie che ne avrebbero bisogno sono sempre di più, c'è chi non riesce nemmeno a procurare il pranzo per i propri figli. Abbiamo fatto richiesta per un aiuto economico dal comune equivale a 300 euro annui e c'è stato negato. E mentre monta la rabbia ci si chiede dove sia il primo cittadino. Alla fine non ha mandato nessuna impiegata, non ha fatto nessuna chiamata. Io e questi signori qua abbiamo chiamato due migliaia di volte. Abbiamo arrivato a un punto che abbiamo mandato dei messaggi scritti e come non abbiamo fatto nulla. Come non ci siamo qua? Mi hanno trattato il peggio di un cane. Ci giuro. No.